Sentite che coreano eh! Arundeo, s'arranzo rovo! Chiure no! Cheumaronno! Cicumbutta dendecca cicacutte! Oppa, Gangnam Style! Gangnam Style! Eh Diego ti piace la mia gambetta? Eh? Era un omaggio, era semplicemente un omaggio alla nostra giuria e farvi capire che imparare il coreano si può! Bravo, Gabriele Cirelli! Questi sono dei omaggi!